buongiorno a tutte incomincio a fare la lavatrice la mattina presto lavo lenzuola visto che qualcuno mi ha chiesto come fare non strarli lenzuola ragazzi ma la prima volta che hai dormito sopra lenzuola sono già tutte strucciate hanno tanto male che le mette già strucciate già strucciate li stendo bene a modo però non sto diventare pazze mi voglio ancora un po bene anche non mi rifiuto oggi voglio mettere posto un po la cucina comprate due o tre cosine su amazon ho comprato anche acido citrico ragazze ho trovato acido citrico da un chilo da 8,60 8,60 va benissimo poi ho comprato un'altra due o tre cosine dei cinesi da mettere a posto sempre sotto la bambina perché l'ultima volta che abbiamo messo a posto ho messo a posto con quello che abbiamo in casa questa volta lo voglio mettere a posto definitivamente direi se non si spaga qualcosa vi volevo far vedere acido citrico come ha questo è un chilo non so se è un chilo adesso voglio anche pesarlo si è pesato è un chilo è un chilo 8,60 l'unica cosa che mi sono che mi sono frenato perché volevo prendere due perché c'era scritto monoidrato scusate che ce l'ho ancora un po di tosse ho la tosse da una settimana non è covid ma ho preso un po di freddo si vede che gira qualche influenza adesso ci ho passato una settimana con la tosse ragazzi allora ho comprato voglio farvelo vedere ho comprato questi sacchettini qua praticamente uno aglio per la cipolla e per le patate sono lavabili questi qua li ho presi su amazon questi qua chiaro mi dispiacevano poi vediamo giustamente nel frattempo come diventano poi ho preso anche una cassetta dai cinesi questa qua fatto così in legno vorrei mettere queste cose qua dentro la cassetta in legno perché mi piace di più che tenerli in plastica e poi ho preso anche questo qua in plastica che vediamo se ci sta dentro sotto lavandina ci metto tutti i disersivi qui dentro e vediamo come sta oggi voglio mettere a posto la cucina prima di tutto devo riempire tutti questi barattoli qua perché vedete sono tutti vuoti anche qua devo mettere a posto le crostatine che ho comprato da un euro l'unica cosa è che sono solo sei crostatine qua costavano un euro però sono solo sei di solito dentro un pacchettino ci sono 10 ecco perché postavano un euro però le ho preso lo stesso ecco solo sei c'è un euro l'unica cosa è che ho resta l'unica cosa è che lo stesso è che ho resta quando la gente mi piace di una becchia o questo è andata c'è una becchia che ho resta la becchia che ho resta c'è una becchia che ho resta e un euro buonanotte Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 a tutti.